amici per la pelle sul teleschermo blu benvenuti alla nuova puntata dei cartoni animalati siamo abbastanza idioti guarda 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 ma da qua voglia di cambiare identità mesche nei orecchie mesce troppo c'ho la caposcia rossa va bene una bella intro così da cretinetti giusto per festeggiare il ritorno della giammarca tonara ho detto che non giamata giamatao giamatao facciamo facciamo vedere come proprio guarda visto come che slide perché noi abbiamo il carrello elettrico che sposta il tavolo di legno aspetta che tocca quelli degli effetti speciali e ragazzi scusate un po meno ok perfetto ok il po di fumo fate degli effetti del fumo no io temevo un pochetto sto fumo però vabbè lasciam perdere è l'aere che è un po inquinata qua veniamo da un momento pregno molto pregno denso nel quale io non sono riuscito mai mai a sincronizzarmi con la con la tonari complice anche un po il tempo ergo cioè nergo tergo ma tu più che altro tergicristallo ti serviva sul motorino perché ne veniva giù tanta esatto il momento delle massime del tonari yamatao vai e quando ti arrivano in faccia quando la vita te da solo secchiate d'acqua tu che fai dimmi tu che fai che domanda è semplice no io io no non ne sentivo la mancazza vi giuro che vi giuro che la puntata l'avrei fatta volentieri anche senza di lui hai sentito il gelo da me guarda io ho acceso anche la stufetta quella la che prende fuoco da dieci secondi però veramente brivido ma un grosso grosso brivido qua i pollici pam 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 veramente veramente abbiamo come dire scoppiettante scoppiettante tutto questo ha levato tempo all'intro che voleva ricordarvi di iscrivervi a tutto quello che è ovviamente a tutto il canale del tg comics alla pagina facebook ricordate il link per sostenere il canale canile esatto c'è la pagina le pagine spolliciate 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 siete ritornati un po pigri un pochino si sono impigriti perché solo una puntata ha sforato i 200 pollici dai che ce la facciamo a sforare i pollici ci servono per comparire all over all over il tg comics ma forse è un bene che non compariamo all over no ma come facciamo salire le mie massime come fate a vivere senza le massime del giamatao 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 senti io faccio vedere un po di cosine allora vai mazza che figo a quanto sappiamo cioè spariamoci un po di botti di lion perché poi no sembrerebbe che non ci sia più poi e c'è più di più birds of prey anche se io lo vorrei bird man tu dirai che mi stai guardando come faccio guarda che faccio guarda come faccio guarda era un cartone animalato credo americano di quando ero piscuano io e c'era bird man l'uomo uccello ma pensa e non l'avevo neanche insensurato ed era affiancato ad altri supereroi ok ma bird man era fico che aveva la sua aquila era fichissimo guarda sicuramente nei commenti poi tu battili a leggere perché sei piccolo pure tu perché qualche volta non ti vai a leggere vai a leggere ritardo rispondi poco interagisci giamatao io sono rimasto hai fatto talmente tanti video che io sono rimasto talmente tanto indietro che ancora mi devo finire da vedere la puntata dell'intervista al buon kason 22 ecco quindi che è il citofo andate al 22 citofonate kason e lui che risponderà esatto non diciamo la via però non è neanche al 22 e ancora io adesso mi sono accattato anche il volume 1 di attica firmato da bombe di acqua e quindi me lo leggerò astica direbbero quelli dall'altra parte comunque c'è il birds of prey collection harley queen le siren e the gotham serie volume 2 perché ovviamente c'è anche un che è? volume 1 se la matematica non ti è amica magari lo è a me ma anche a chi colleziona a me la matematica proprio mi ha voltato le spalle anni e anni fa eh tanto tempo fa facciamoli dei vicini belli eccoli qua che escono insieme due volumi 1 a 32 e 95 e 1 a 33 e 50 c'è come quest'area che se volevo sbrigà non lo so vabbè poldi di galloway sgrind away guinaud c'è un botto leggente e facciamo vedere un po' dell'interno perché indubbiamente merita assolutamente si eccolo qua e alla via cosina facciamo vedere uno l'altro è uguale avanza io prendo la roba prima dal mio amico fragile prima che casca tutto per terra dopo mi tocca pagarla e vado anzi vi presento una novità per la flashbook my roommate is a cat 5 euro e 90 il canale canile miagolante il giallista mikazuki subaru non sopporta le persone che disturbano il suo lavoro ma ecco che al suo fianco compare una gattina ed è proprio osservando l'incomprensibile comportamento della gattina che subaru trova spunti per il suo nuovo romanzo ma è una subaru imprezza? ha 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 può essere può essere può essere c'è il forester pure c'è la subaru il forester gump oh 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 mamma mia facciamo vedere due la temperatura continua a scendere nonostante io stia con la zimarra e lui in maniche corte pagina bianca ma è caloroso la giamma ma è bollente t'ho detto infatti Elisa mi usa come scaldotto lo scaldotto lo scaldotto è la forma dell'otto appunto gli autori sono Minatsuki e Futatsuya As Milatsuki? la pallavolista? la pallavolista va bene allora Mila e Shiro due feline nella palla a volo sketch and breakfast ci presentano feline anni 80 land per Magico Press Magic Press 12 euro cosa fareste se per una sfortunata serie di eventi il vostro piccolo nipotino venisse rapito e portato via dai goblin sareste pronti a seguirlo e incamminarvi per un aggrovigliatissimo labirinto incantato costellato di ingannevoli indovinelli e intricati trabocchettra ah sei cascato c'è il trabocchetto che si chiama tracobetto è popolato dalle più incredibili creature evocate dalla reminiscenza cata degli anni 80 e se in questo viaggio vi accompagnasse un bambino che non ha mai visto nemmeno uno di quei film ah i meravigliosissimi anni 80 guardate che bello tutto colorato i disegni veramente veramente gradevolissimissimi volume con flap flap alette oh vola 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 la primaia come volano anche le altre novità per la flashbook coiote e come diceva Bronzo Canà mi avete preso per un coiote ma no sei un eroe era quella no mi avete preso per un coiote eh sì non lo ricordo no te lo ricordi tu certo mi ricordo allenatore nel pallone non mi ricordo il film mi ricordo però solo le scene cult che credo di aver rivisto da grande sul tubo prima di rivedermi il film bene ok 6 euro e 90 per la flashbook non mi importa se siamo entrambi uomini o se apparteniamo a specie diverse ok mi sembrava vampiresco un po' vampiresco allora coiote è un giovane che vive la sua esistenza nascondendo a tutti di essere un ligato ah un ligantropo perdono perdono c'è la ligantropia ligantropia portami via esatto ok faccio vedere qualcosina sì controllo se non male non male ben sì ben sì sovraccopertinato come sempre sì sì sovraccopertinato ma che bello ma che bello e poi abbiamo il secondo volume di October Fraction Steve Niles ha i testi il brivido della caccia e c'è serie Netflix originale abbiamo anche Damian Warm non lo so è un po' che non accedo a Netflix per motivi che non riesco proprio ad accendere la televisione e in causa di forza maggiore ogni picosecondo viene dedicato al sonno quindi mi perdonerete ma che scherzo il prezzo non l'ho detto il prezzo è di 14 euro Magic Press poi invece arriviamo al numero 3 per la canzone di Apollo che era il padre di Apelle esatto esatto il volume numero 3 per Goen 6 euro e 95 Osamu Tezuka sempre collection ecco qua e poi per 9 euro e 90 la Magic Press ci porta 6 solo mia ad opera di Napata Napata una patata una patata una patata si si può dire un tubero esatto a me non piace un tubero un tubero caspere così proprio fu 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 a volta di gol vediamo un po' che ci abbiamo qui Deep Clean o Clear Deep Clear Deep Clear 12 euro e 90 per Dainit Manga è opera sempre di cosa? Chiosai si Chiosai Buonasera Mio Obana è l'autrice del giocattolo dei bambini e infatti quando giocassero i bambini conta Honey Bitter ah è un crossover sana e Akito del giocattolo dei bambini Shuri e i suoi compagni di Honey Bitter tutti insieme appassionatamente in un crossover è proprio un crossover 12 euro e 90 attenzione a questo punto facci vedere facci vedere voilà 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 volume con sovra a coperta poi sempre la Magic Press ci porta Pistols numero 9 prezzo 6 euro e 90 Pistols ok 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 guns ci sono le guns le guns no le guns and roses attenzione perché sta arrivando oddio c'ho mal di resta gli ho detto urla poco ma sta arrivando avvertitemi quando ha finito The Pumamanga no no dai è grosso è grosso è grosso scontri i quattro numeri che erano usciti in precedenza per la Goyle di Dororo sì Dororo Dororo che dovrebbe essere quello che io sto vedendo nella serie animata ma non mi dica è coso Dororo la serie animata da Netflix pure quella no quella sta su Amazon Prime no è coso il piccolo Sasuke Sasuke il piccolo no perché sembrava no no mi sa che non è questo no questo è il bambino quello che nasce ah patto demoniaco senza le parti del corpo e poi ogni volta va a recuperare qualche cosa vedi sì i demoni perché quanto ho visto nella serie tv il padre vuole diventare vuole il primo genito maschio nasce questo bambino cioè lui fa un patto con i demoni e in cambio i demoni si prendono qualcosa quindi si prendono tutte le parti del figlio e quindi lui poi lo abbandona e poi c'è la storia di questo bambino non è più un bambino quello che vediamo noi già in età adulta e va in giro a cacciare demoni e monstri ma la serie di madre è molto interessante ma credo sia molto bello anche il manga caspita che tematiche forse se non ricordo male è una serie Amazon Prime sta su Amazon Prime allora ci ci butta c'è un occhio sì sì è proprio il caso lo metto in lista c'è un botto di roba the price is oh scusate edito sempre per shonen no che è è la goen goen ecco qua 39 e 95 per questo il manga questa è una bella chicchetta sempre Magic Press ah cartonato scusate il diavolo che conosci Ragnarok con Mike Mignola sempre all'interno terzo numero e abbiamo anche Scott Haley Lawrence Campbell Christopher Mitten e Dave Stewart questo è il contenuto sempre sempre notevole ragazzi no è un bello bello ci sono sempre delle belle letture vi devo dire sempre delle belle letture poi andiamo avanti con l'atto secondo di Days of Hate secondo e ultimo volume di risedizioni ci dovrebbe essere Daniel Zezeli Daniel Zezeli e Alex Scott al timone di questo volume è molto bravo e quindi niente finale di una tragedia distopica 17 euro ecco i disegni di Zezeli possiamo far vedere tranquillamente che merita 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 oggi sono delle pagine bianche e nere ecco mazza great sensations great sensations great sensations vi faccio vedere anche Unvanceable numero 71 continuano le doppie cover eccola qua A e B il prezzo dovrebbe essere sempre lo stesso 3 euro e 90 salda press la via così andiamo avanti con un'altra novità Visa Transit che è quello che dicono a me quelli della carta decredito quando la faccio sui transit per transitare tra i danari esatto 27 euro Nicola Decresi edito sempre da Eris Edizioni molto bravo abbiamo visto vendere diversi volumi molto molto bravo notevole e che poi credo sia una storia vera della fuga è autobiografico se non vado errato poco dopo la tragedia di Chernobyl Nicola Decresi e suo cugino ventenni partono per un lungo viaggio a On The Road con una vecchia scassata Citroen Visa con a bordo una piccola biblioteca improvvisata addormendo nei sacchi a pelo attraverso nel nord Italia, la Jugoslavia, la Bulgaria fino alla Turchia ricordavo qualche cosa del genere notevole e qui gli appassionati smanettoni videogiocatori oh 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 ma non me di Elisa qua la visa Elisa lui passa la visa te lo dico addio scusate tutti i giochi di riflesso devo mettere così Jamatau va bene lo vengo io guarda che bello volumone guarda che bello semi pumma masterico dell'arte di Diablo attenzione attenzione volumi blizzard magic press 30 euro 30 euro e ci staranno in mezzo tutti quanti gli script story braids creazioni dei personaggi gli artbook di Diablo 3 e anzi scusa con oltre 500 bozzetti di Diablo Diablo 2 Diablo 3 Diablo 4 ragazzi questa è la storia dei videogiochi che ci hanno appassionato per tanti anni sì assolutamente sì questo è il penso che il primo gioco è pure io eh dai cioè questo è seminale 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 un videogioco seminale un artbook imperdibile imperdibile per tutti gli appassionati devo dire questo me la catto ciao bella lo sapevo lo sapevo non lo sapessi ma lo sapevo ma prego ma prego ma tu me l'ha fatto così e io che ti dico scusa sono un po' cattivo che ci abbiamo qua ah è il Batman che ride come non riderà Elisa quando vedrai il book però devo dire far ride quanto fa morire noi almeno oggi perché è veramente una coppia assortita come guarda come ride guarda come ride come un cornetto che ha mortadella proprio mamma mia cagre ma signore prego 25 euro e 95 RV Lion un Batman che ride è un Batman che vince sempre eh sì Snyder Tanyon quarto Jock Rissot ti sono mancato? beh ti devo dire all'inizio sì adesso è un po' meno guarda come ride coda attenzione terzo volume 15 euro contiene i numeri dal 9 al 12 Mattias Bergara ai disegni ma Simon Sparler ai testi scoppiettante ho letto il primo numero mi è piaciuto tantissimo ma sono ufficialmente rimasto indietro adesso di due volumi come voi tutti ormai saprete la mia costanza è mostruosa bello 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 io ve lo straconsiglio una specie di pseudo fantasy come io dico sempre c'è un po' di Terry Pratchett è bello scritto bene un mix di generi bello fatto proprio bene Panini Comics questo ve lo straconsiglio poi abbiamo qui i due volumi separati del cofanetto Metal esatto l'ascesa dei cavalieri oscuri Incubi senza fine e Tempo di notti oscuri i due volumi sono Incubi senza fine a 24 euro e 50 e Tempo di notti oscuri a 29 euro e 95 facciamo vedere qualcosa dell'interno mi fico vedere di che cosa penso in generale mi fico vedere questo è Metal Metal questo è Metal c'è il cofanettone quello grosso con la maglietta che avevi fatto vedere ah c'è di Gian Domenico sull'ascesa dei cavalieri oscuri si vedi perché il titolo è questo non è questo infatti io con l'incubi senza fine ah l'ascesa dei cavalieri oscuri vabbè ma stai a vedere questo sembra un po' Ronnie James Dio però te lo devo dire beh la somiglianza c'è parlando di Metal la somiglianza c'è eh si si potrebbe proprio ricordare comunque c'è anche il mister Jim Gian Domenico eh si Carminone grande grande beccatevi questa guarda beddu beddu be no eh really 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 adesso facciamo vedere una cosa che farà impazzire tutti quelli che stanno appresso alla come dire chiamiamo la polemica del momento ossia l'aumento dei prezzi no che da gennaio attuerà la panina pan ecco e al di là della mancanza di comunicazione eccetera eccetera non ci credo poi loro non ci posso credere l'hanno fatto eh sì questo è il cartone se vede il cartone qua eh se vede così guarda che è praticamente la pagina rossa non segue il cartone ma viene via quindi dopo prigionero x e quell'altro del legge vitzman che se andava tutto quanto a dispense continuiamo con una cura degli albi che sembra essere un pochino fallace sono arrivati tutti così tutti fallati capitano america sognatori americani 24 euro e mannaggia la miseriaccia mannaggia mannaggia volume 16 per otaku teacher dal cuore pulsante di Akihabara le foglie le foglie avventure di un insegnante nerd tutto genio e sregolatezza 6 euro planet manga e via facciamo vedere qualcosina questo cartonato invece è uscito fuori bene ed è Daredevil l'autobiografia di Matt Mardock Mark Waid e Chris Sumney e contiene i Daredevil del 2014 dall'11 al 18 e il 15.1 la conclusione dell'epica saga di Daredevil appunto di questi due autori 22.000 lire l'ho detto come 20.000 lire ahhh facci simpatico sono simpatico quasi come un cartonato che si scolla guarda volume 6 ti amo ma fatti ammazzare quello che mi dice sempre Lisa la mattina quando ci svegliamo 4 euro e 50 planet manga che cosa posso fare d'altronde no e tu che puoi fare niente fatti ammazzare ma ci avrebbe anche ragione anche ragione grill nella roca su Star Wars ammutinamento su Moncala attenzione volume da 15 euros rose e questo è il contenuto brossuratino anche se Andrea mi ha detto che era stato presentato come un cartonato così mi ha detto poi andiamo avanti invece con il numero 17 di Nana e Kaoru planet manga 5 euro e 50 e no ha detto no ha detto no allora passiamo a dottoressa Afra il numero 4 se non vado errato il titolo è la prigione della morte Sparrier e ritorno sparrier e Walker Walker e tu il camminatore per gli amici la dottoressa Afra è finita in carcere un'altra volta questo è il super contenuto anche questo brossuratello poi andiamo avanti con Zebra il volume 20 ma ci lo posso dire Zebra Zebra? vuoi dire come le strisce Zebra Crossing lo dicevano a New York Zebra Crossing se lo dicevano la parodavano e basta lì marodavano e se lo dicevano non lo capivo perché facevano ah ok è chiarissimo è chiaro numero 20 di Zebra tutto inciollofanato quindi non vi posso far vedere niente 7 Europlanet Manga and passa the paura domino hot shots ancora brussurato ancora panini 10 euro e 90 una nuova squadra di eroine Marvel per affrontare una minaccia cosmica Gail Simone e David Baldeon andiamoci a spizzare un pochitos pochitos ways dopo Carlitos ways pochitos ma sono cifari belle però devo dire guarda io per me ma io pure mal di testa e carenza le sonno ho sempre detto fungono da paura volume 9 per bis a che volume sei arrivato meno uno bistarsa ancora il primo 7 euro planet bank ha visto che ce la posso farcela però in modo sgancia una bomba non fa notizio che avevo letto house of x1 no no mi è piaciuto poi ho letto power of x1 mi sono fatto due sfere che non l'ho finito devo dire l'ultima pagina non l'ho manco letto ma è il volume 2 si il primo di power of x ah ok il secondo in ordine d'uscita adesso dobbiamo leggere house of x2 dove dicono che si sgancia una bomba atomica voglio proprio voglio proprio vedere ma vedevo che power of x boh boh prego ma boh prego black butler il numero 28 planet manga 4 euro e 90 zikio zikio mi piace questo rumore zikio zikio così mi piace venom eccolo qua c'è ancora il capitello sopra guerra dei regni il numero 16 ovvero il 33 della vecchia numerazione di age of christ il segreto di jack lanterna prezzo ancora 2 euro andiamo avanti invece con il volume 7 di nana reloaded edition 6 euro e 50 sempre planet manga volume sempre sovra copertina e non ha bisogno di presentazione maiz morales spider man testata apprezzatissima arriva al numero 3 prezzo 3 euro e 50 brooklyn appartiene a lapide ora chiaro hamed e garrona lo dice lui o io perché sono riuscito a beccare solo pagine con pubblicità ecco forse qualche cosa i disegni ve la faccio pure vedere poi andiamo avanti invece con il nuovo numero di gideon of the third numero 8 5 euro e 50 per planet manga storia di un rivoluzionario e passa la paura sto riuscendo a rimanere bene 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 indietro anche con l'immortale Hulk che arriva al numero 17 eccolo qui il prezzo è di 3 euro e 50 a sto giro Ewing e Bennett sarebbe il 60 la vecchia numerazione e dentro ci sono due storie guardate che ho beccato e invece arriva alla conclusione con il numero 11 dolly kill kill e planet manga 5 euro e 50 cosa incombe sulla terra non avevo fallo idea pioggia quello 80 potrebbe andare peggio potrebbe piovere esatto fantastici 4 numero 12 eccolo qui il prezzo è 2 euro e 50 è il fumetto più straordinario nel mondo la cosa contro l'immortale Hulk Slott Isaacs Whiteley Robson chi più ne ha più ne metta numero 6 di Gleipnir questa non ho ancora mai sentita se si legge la tedesca dovrebbe essere Gleipnir ma non ne ho idea questo qui non ne ho idea questa è la storia dei miei errori quelli che pronuncio 7 euro i disegni entrano molto fighi mi ricordo che l'ho sfogliato ed erano molto bellini non male infatti molto carini si si non erano male per niente non so come la storia chi di voi lo legge me lo fa sapere grazie ecco qua poi arriva sovracopertinato sovracopertinato arriva Wolverine eccolo qua e abbiamo Deadman Logan Brissom è Anderson 3 euro e 50 67 393 le numerazioni questo l'interno wow vada via così poi numero 44 di Giant Killing 44 gatti in fila per 3 con il resto di Giant 5 euro e 5 ma possiamo anche finire sì sì vabbè quanto manca la fine di questo non lo so non lo so non lo so finisce finirà mai finirà ed eccolo qua House of X numero 2 e ci andremo a leggere cosa succede in questo number 3 euro 2 di 6 sarebbe il 357 della vecchia numerazione che vabbè Ickman lo sapete e c'è Coso e adesso non mi verrà mai il nome oh signore pepe la razza ecco scusatemi lo faccio vedere un pezzetto di pepe lo do e dai e dai che ci sta mettete un po' di pepe la razza a nostra vita ah sì mamma mia volume 4 del year of the witch sette euro planet manga via un po' demoralizzato no no vabbè volume con sovraccoperta sì beh dato che serve in questo frangente di freschino sì sovraccopertiamoci esatto e pagina bianca oggi le ho prese bravo 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 il professionismo quando c'è e qui arriva un puma un puma cartonato di Conan attenzione a questo giro andiamo a 1986 seconda parte prezzo che è rimasto a 25 euro per questa collana un botto di autori per un personaggio assolutamente mega mega storico meraviglioso meraviglioso questo in libreria fa una figura veramente monstra bello 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 assolutamente poi e poi voi siete pronti voi siete pronti the puma master the puma manga beccatevi questo l'attacco dei giganti colossali ti sono salvato guarda dimmi che so bravo dimmi che non so bravo me vuoi bene esatto più o meno il volto del tradimento numero 4 colossali che ne so all'alba del 150 giorno del 150esimo volume se arrivino a 150 servono veramente degli 8 locali manco 3 locali contiene i numeri 10 11 e 12 infatti se sente del peso 25 euro volume con aletas per planet manga serve per volare via ma che siamo all'ultimo volume siamo all'ultimo volume io ho finito qua io ho finito qua e allora andiamo con l'ultimo volume che è un lenzuolone Wolverine Logan badabin badabin dai disegni mi sembrerebbe risso mi sembrerebbe allora il capolavoro di Brian K. Wogan e del mese di trasera eduardo risso madonna quanto sei forte quanto sei forte quando riesco a vedere ancora gliel'ammollo un pochetto gliel'ammollo nel corso degli anni mi sono fatto un mucchio di nemici ma non ci perdo sopra il sonno no a che c'è scritto a tenermi sveglio sono le donne quella manciata di ragazze per cui nel corso dell'ultimo secolo o giù di lì ho perso la testa come un idiota vedete posso riprendermi da quasi tutto ma non se mi strappano il cuore oh romanticone Logan romanticone questa è l'edizione sempre con il mega posterone wow wow bello bello poster 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 bene 20 quanto costi 20 sacchi 20 sacchi 20 sacchitti la puntata di oggi è scorruta via così proprio in leggerezza ringraziamo volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti perché ultimamente sono veramente saliti alla grande e molti ci fanno i complimenti noi vi ringraziamo non li meritiamo ma ci fa piacere comunque che ci seguiate esatto la nostra vetrinetta sulle uscite della settimana si conclude qui vi ricordiamo sempre che sotto troverete dei links con delle chicche delle perle dei suggerimenti la pagina hai letto hai visto che mi è arrivata una mail e Amazon mi ha fatto fare la pagina dell'influencer quindi là dentro ci metterò delle chicche ma dai però io non sono influencer perché non funziona io me la prendo l'influencer non vendiamo un pub però va bene che ci frega quello sempre comunque se qualcuno non avesse una fumetteria nelle vicinanze esatto mi raccomando sosteniamo le fumetterie sosteniamo direi che per oggi le battaglie sono tante viene avanti mal di capa gigante tu che stai per dire? no io so viene avanti solo il gigante che io devo tornare in ufficio ma mi sa che senti ce l'avete un posto qua che mi metto un attimo si si se il bagno è libero ok allora vado in bagno in attesa che la pioggia finisce di cadere e mi sa che ci rimani un pochetto tutta la notte e a un certo punto quello che vedi è il cuore come dice il mio suocero giornata di massime di minimi ma soprattutto di minimi assolutamente e che il cipi di merlo vegli sempre su di voi ciao